Buongiorno a tutti e ben ritrovati nuovamente qui da noi da Caramellando. Ricordiamo che noi siamo un negozio di articoli per feste, da noi troverete un vasto assortimento di caramelle, confetti, inoltre realizzazione anche di composizioni di palloncini, bomboniere, tutto quello che può servire per i vostri eventi e il vostro party. Ricordiamo che ci troviamo in corso del 1960 a zona Piazzatore Lunga, ma stamattina io sono qui in compagnia del nostro carissimo amico Vito che è stato nuovamente così gentilissimo, grazioso, ha avuto un dolcissimo pensiero e ci ha riscritto nuovamente un'altra poesia per il nostro locale. Vito passo a te la parola. Ti ringrazio per queste parole che hai detto e quindi quello che ho scritto è la bottega dei sogni. Penso che è un sogno in Cianecuale. È un sogno, sì, perché i bimbi lo chiamano il paese dei balocchi. Bellissima, belle parole, però io balocco non l'ho scritto, va beh, scritto la bottega dei sogni. E allora, venite in tanti nella bottega dei sogni dove voi, guardando, la notte sognate. E poi in tanti fate la fila per comprare quel dolce, tutto dolce da caramellando. Quello che gusterete felici dentro casa, tutti quanti assieme per le feste dell'anno, ringraziando con il cuore la proprietaria che per tutti si chiama Veronica la Grande. Quella che vi guiderà con dolcezza nel locale, con sorriso suo sul viso tutti i santi giorni, dicendovi guardate questi cioccolatini e queste caramelle da gustare sempre. Con la vostra delicata bocca piena d'amore. Dove poi direte, oggi io compro di tutto per questi figli miei che sono assai golosi. Di questi graditi dolci suoi, tutti da sogno. Così Veronica vi dice di venire al più presto per guardare poi per comprare di tutto nel silenzio assoluto del vostro cuore. Riflettendo con calma quello che volete. Dove potete anche assaggiare tante volte col vostro marito quello del vero amore. Facendoli innamorare ancora di più di voi. Che siete la donna vera del piacere. Quello bello dell'amore che vi farà vivere sempre di più nei giorni più lontani. Che verranno domani in questa vita entrando con Gione alla sua bottega. Chiestita sempre dalla signora Veronica. Dove vi ringrazio e vi saluto sorridendo tutte le volte che comprerete da lei. Quel piccolo regalo per poi donarlo. All'amica, alla mamma, al nonno e al papà. Oppure a quei nipotini che amate tanto. Con il cuorellano ogni giorno di più. Facendolo giocare sempre accanto a voi. Ciao e grazie. Grazie a Enrico per questa splendida poesia. Inoltre cogliamo l'occasione di fare gli auguri di buone feste, di buon Natale, di buon anno a tutti. Mi raccomando, vi ricordo, Vito l'autore, poesie bellissime come avete potuto ascoltare. Inoltre lui scrive tantissime poesie, quindi andate a visitare il suo canale. Vi aspettiamo sempre numerosi qui da Caramellando. Un bacio e auguri. Ciao, 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 auguri. Ciao, 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 ciao.